Una delle cose che mi preoccupano tanto è l'annuncio funzionale della parola di Dio nelle omilie. Per favore, fate del tutto per aiutare ai vostri fratelli, diaconi e sacerdoti e vescovi a dare la parola di Dio nelle omilie, che arriva al cuore, un pensiero, un'immagine, un sentimento, è arrivato, ma è la parola di Dio che arriva. Tanti sono capaci, ma sbagliano lì e fanno una bella conferenza, una bella dissertazione, una bella scuola di teologia, la parola di Dio è un sacramentale. Così Papa Francesco ha parlato dell'omelia ai partecipanti all'Assemblea Plenaria della Federazione Biblica Cattolica, raccomandando che ci sia la parola di Dio perché tocca il cuore. Nel suo discorso a braccio il Papa ha invocato una chiesa pastorale, soltanto la parola di Dio e accanto alla parola l'Eucaristia. La parola di Dio non è una cosa che ci fa la vita facile, ha aggiunto, ci mette in difficoltà, sempre. A chi la porta sinceramente, lo mette in difficoltà, lo mette in imbarazzo tante volte. Bisogna sempre dire la verità, ma con tererezza, con quel portare sulle spalle le situazioni, le persone. Si può capire con un rispetto di fratello che sa carezzare. Questa è la chiesa in uscita, è una chiesa martiriale, che va per strada, che va in cammino. Un discorsi che fanno bene... Un discorsi che fanno bene... Un discorsi che fanno bene...